Ciao a tutti, bentrovati sul mio canale Feri ASMR. Io sono Federica e quello che state per guardare è un nuovo video ASMR o mukbang, quindi un video in cui mangerò con voi qualcosa. In realtà il menù è davvero molto molto particolare oggi, quindi spero che vi piaccia. Se è così non dimenticate di lasciare un bel mi piace prima di iniziare e naturalmente iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti cliccando sulla campanella per non perdere i prossimi video rilassanti. Se siete misofonici, quindi non amate ascoltare i suoni della masticazione, vi consiglio di passare a un altro video perché qui i suoni della masticazione saranno molto molto intensi, ovviamente grazie al mio microfono che ho qui, in grado di amplificare tutti i suoni per farvi rilassare al meglio. Bene, direi quindi di mettervi comodi e che possiamo iniziare. Eccomi, allora la mia merenda di oggi prevede, come potete notare, uno snack con grassini e formaggio spalmabile. Qualcosa tipo Philadelphia, credo. L'ho già assaggiato ed è super 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 buono. Anche se pensavo si trattasse di uno snack dolce, non è così. Comunque questo, poi abbiamo una carota e anche un grissino al sesamo e c'è qualcos'altro, non so bene. Comunque cereali, sì. Sono tutti alimenti piuttosto granchi, tra l'altro ho anche una salsa qui, non meglio specificata, che proverò ad assaggiare insieme alla carota. Vedremo un po' che esperimento riuscirà fuori. Direi però di iniziare dai grissini al formaggio. Che ne dite? Vediamo un po'. Vediamo un po'. Vediamo un po' che ne pare? Vediamo un po' che ne pare? L'inquadratura di questo video nasce dalla vostra richiesta di un mukbang ASMR in close-up. Spero quindi che vi piaccia. Allora, iniziamo, ho preso un grissino e lo ricopriamo di formaggio spalmabile e assaggiamo. Niente male. Allora, iniziamo. E' vero, questo formaggio spalmabile ricordo moltissimo il Philadelphia. Il Philadelphia o la Philadelphia, come dite voi? Non c'è solo il riso di Porto di Porto di Porto della Porto di Porto. Non c'è vero. C'è già veramente la vittoria. due gristini vicini, sembrano due allignetti vorrei farvi vedere il vasetto mentre manca c'è ancora un bel po' di formaggio però i gristini sono quasi finiti ultimo gristino poi passiamo a un altro snack ecco non ho idea di che cosa sia potrebbe essere qualcosa tipo aceto vediamo un po' stranamente ci sta bene vedete questa è la salsa chissà che cosa c'è dentro un po' 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 ultimo morse la un po' un אוvi finalmente è il momento del super macrocrestino allora questo proviamo ad assaggiarlo con un po' di formaggio ma penso che anche al naturale sarà buonissimo buonissimissimissimo wow non so quanto sia la mia merenda però mi avete richiesto dei cibi molto croccanti e ho pensato subito ai cristini e poi avevo anche delle carote in frigo e ho detto perché no proviamo ad associare queste due cose con un'idea della salsa sulla carota è stata vincente dite la verità quanto state mangiando durante questa quarantena ultimo pezzetto che bello che bello per far tempo dietro di me si accendono e si spengono delle lucine avete mai ascoltato un smr con dei conigli che mangiano carote ve li consiglio il suono è davvero rilassante l'ultimo pezzetto che bello che bello ottimo per chi come me ama gli eating sounds questo è il paradiso bene fatemi sapere se questo video è stato di vostro gradimento io vi ringrazio grazie 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 per essere stati qui con me fino a questo momento e noi ci vediamo come al solito se vi va è il prossimo video bacini fadosi, carotosi adesso tocca a te hai già lasciato il mi piace? iscriviti e clicca sulla campanella per non perderci di vista oppure abbonati se vuoi sostenermi ed entrare a far parte della Fairy Crew ah e se vuoi continuare a rilassarti clicca su uno di questi altri video che ti lascio qui intorno penso possano piacerti buonanotte grazie a te ragazzi che ti lascio e